Come vi state preparando? Io mi sto preparando semplicemente ad essere sicura di me stessa e non fare sicuramente brutta figura. I vostri sogni nel cassetto quali sono? Ad oggi avere sogni nel cassetto significa anche combattere tanto e bisogna vedere se alla fine arrivi. Il mio sogno nel cassetto è fare la parrucchiera, cioè diventare una parrucchiera. Però Concetta e Peppe ci stanno aiutando tanto anche nell'ambito di sfilate. Giochi di fuoco spettacolari per stupire grandi e piccini. Sì, è una passione che è nata con gli anni, per me nasce con l'animazione. L'ho portata avanti credendoci più che altro, anche per dare una svolta a livello artistico a Gela e non solo come fa Giuseppe con le sfilate e tutte le cose, perché oltre ad avere anche una bella città a livello architettonico abbiamo anche ragazzi che valgono e io ci credo, ci credo in me e credo a tutti gli altri. Animazione per bambini ma divertimento per tutti. Voglio ricordare che a volte si dice non c'è festa senza bambini e quale occasione migliore per rendere proprio la presenza di un animatore che risalte un po' questa figura dei bambini in modo giocoso e in modo divertente anche per quanto riguarda gli adulti. Insieme al nostro clown allora rinnoviamo l'appuntamento, orario, luogo e data. Allora giorno 6 alle 21 Chiesa Madre, saremo tutti presenti, vi aspettiamo tutti, portate i vostri bambini in maschera perché sarà proprio un bel evento organizzato ad hoc. Gela ci sarà nel cuore, vi aspettiamo! Grazie! 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 Grazie!